buongiorno allora innanzitutto mi scuso per il video precedente che non si sente l'audio questo spero si senta spero di non avere problemi tecnici sono settimo al torneo il mio obiettivo è arrivare terzo perlomeno passo subito alle donazioni vi chiedo di donarmi le carte degli adesivi se riuscite perché sono quasi a 500 almeno ho un'altra possibilità di trovare l'ultima carta comunque passiamo le donazioni che me le sono scritte allora alec vuole amico tursiope jack 08 unicorno ghiacciato quindi amico tursiope o tursiope non lo so alec unicorno ghiacciato mi ha chiesto jack 08 solo ho solo 4 donazioni perché sono riuscito a vincenzo foto blu tieni duro e sono riuscito a rimettere andoni che gli ho dato fagianastico quindi vincenzo il terzo è il terzo con la foto blu e poi abbiamo wittiaschi e un mazzolino di fiori ne ho un po' di mazzolino di fiori eccolo qua wittiaschi 15 ok le donazioni le ho fatte allora cosa mi è rimasto mi è rimasto qua ho un po' tutto qui non ho nulla qui non ho nulla qui ho orecchie flosce e basta papà numero uno non mi è rimasto praticamente più nulla di carte a 5 ho solo leone a spasso di carte a 5 quindi se riuscite donatemi qualcosa vado a giocare un pochino ho azzardato un per cento perché ero vicino alla prigione vicino alla prigione me la tento un po' madonna sti scudi me la tento un po' per cento perché c'è anche oltre che il parcheggio gratuito c'è anche il ecco qua l'ho preso ecco appunto c'è la sfida la sopra che devo finire o comunque sia dammi un bel 6 ok l'obiettivo di questo video sarà prendere il parcheggio gratuito niente prigione metto un po' per venti vicino alla prigione me la tento un per cento ogni tanto quindi uno perché può darmi i dadi due perché appunto c'è la missione lì quindi solo banconote non pensavo un po di più mi sa che l'hanno un pochino abbassata sta roba delle delle non mi ricordo come si chiama mi si chiama soldi appalate no un attimo perché ho il dubbio farà la grana giusto è un po' abbassata perché mi ricordo che dava molto di più niente parcheggio gratuito sento un per 50 da qua perché è difficile fare due però prendiamo la stazione rapina per 50 non male so fosse una distruzione o meglio così molto molto meglio così che andiamo avanti abbassiamo tanto va bene così perché mi servono i punti visto che vorrei arrivare terzo affitti intanto allora le stazioni che stiamo prendendo però non è il mio target principale attacchiamo gustavo che ovviamente ha gli scudi magari un bel 5 no un'altra stazione attacchiamo lei vediamo se ha gli scudi ovviamente ce li ha ormai me la sono data però per cento bel 5 niente 7 abbassiamo gioco a per 20 dai riuscirò a prendere quella prigione a per cento nel frattempo un'altra affare alla grana prepariamoci quindi ho fatto un colpetto di lag si no da solo queste adesso probabilmente l'hanno nerfata abbastanza anche perché prima dava adesso da sui 500 prima dava anche due abbiamo preso anche i 2000 dati non penso dipenda dal moltiplicatore vediamo se mi da un bel 10 da un bel 10 niente me l'ha dato ora il 10 rendetevi conto ovviamente me l'ha dato per la tassa qua l'abbiamo fatto il 2 è un'altra stazione marpina in banca devo dire parsimonioso di stazioni quando non mi servono dai proviamo adesso non 5 no mi ha dato un'altra stazione credibile vabbè sicuramente avrà gli scudi matematico tengo per 50 dai vediamo se il gioco niente per cento no mi ha trollato pesantemente oh perlomeno mi ha dato il via dai un bel 10 7 dati ottimo continuiamo su questa scia un pochino 11 no stazione rapina per favore bene rapina per cento e dammi bancarotta dai niente sempre grande va bene piuttosto che mi dia la piccola rapina va bene questa eh 600 punti dammi un 5 niente me la metto per 50 dai stazione ho stazioni comunque appalate eh provo a attaccare provo a attaccare questa vediamo se no che abbiano gli edifici rotti o no hanno sempre gli scudi a quanto pare è impossibile trovare qualcuno che non abbia gli scudi dammi un bel 6 no dammi un 8 niente meno gli scudi dammi un 2 e un 1 stazione va bene trovare qualcuno che non abbia gli scudi a quanto pare deve essere un miracolo veramente grande avrei anche chi attaccare senza scudi però non mi aspettavo la disfatta del genere continuo un po' per 50 nella speranza beh potresti darmi un 7 ora dai provo un po' per 100 dammi un 7 6 11 300 dadi perlomeno dai dammi sto 8 me l'ha dato non ci credo me l'ha dato è anche un bel per 4 più bellissimo buono buono molto buono se mi dai un 10 sono felicissimo no 6 dai mi faccio tutta la girata per 100 poi chiudo il video dai almeno 6 7 9 scudi su scudi però direi che abbassiamo un attimino allora provo a fare un ultimo giretto finché mi dai gli scudi va benissimo e stazione questo mi aiuta anche a fare il giro vabbè qua non ci spero nemmeno guarda lo attacco questo perché veramente fatti ormai non ci provo nemmeno a cercare gente che non siano secondi dammi un 5 7 8 9 mi ha dato non ci credo è un altro 9 non me lo darà mai un altro giro dai che vorrei finirla 2600 dati sono buoni beh abbiamo preso qualcosina balsai niente il 7 è il numero che esce di più magari per una volta me lo da o me l'ha dato incredibile allora dai visto che me l'ha dato vediamo se riusciamo a finirla ma posso giocare per 50 10 5 rapina distruzione quindi probabilmente qualcuno che ha gli scudi miracolo della 74esima strada siamo riusciti a beccare uno su non so quanti che vanno agli scudi vediamo se mi dà la soddisfazione insieme a voi di finire storie selvagge dai dammi un 2 un 1 incredibile incredibile 11 no stazione rapina va molto bene molto bene la rapina oh siamo riusciti a prendere una bancarotta anche dammi sto 5 niente 12 o 2 niente un'altra stazione assurdo comunque questa la cambio vediamo se cambiare va bene ok dai vediamo se con gli ultimi tiri li provo a fare per 100 vediamo se succede qualcosa ok ottimo gli ultimi due tiri sono andati da dio da dio veramente ok chiudo qua ci prendiamo anche i dadi ok molto bene ragazzi io vi invito ad iscrivervi le donazioni le ho fatte lasciate like mi raccomando ci vediamo alla prossima donatemi le carte che mi servono e niente alla prossima ciao